Siamo qui con il rieletto sindaco di Varenna Manzoni, due parole dopo questa vittoria. Allora siamo molto contenti diciamo di questa vittoria di così grande margine rispetto al mio avversario e questo ci fa pensare che negli ultimi cinque anni abbiamo comunque ben amministrato il nostro comune e soprattutto sono state premiate le idee che abbiamo esposto durante la campagna elettorale. Benissimo e adesso quindi si continuerà sulla stessa linea? Continueremo sulla stessa linea, ovviamente correggeremo le cose magari che sono funzionate meno cercando di migliorarci ulteriormente proprio perché non è un risultato che ci deve fare adagiare quello che abbiamo già ottenuto ma anzi spronarci per cercare di fare meglio nel limite delle nostre possibilità. Benissimo, la ringraziamo e le auguriamo un buon lavoro e una buona tutela. Grazie a voi.